Buonasera signora, come va? La segreteria non funziona più. E chi l'ha smontata? E sa, i bambini. Ma non si preoccupi, ci pensiamo noi. Grazie. Ma questo è il videotelefono. Certo signora, mi vede? Bell'idea, lo regalo a mia madre. Scusi, sono arrivati noi, faccio. Eccone uno, gli altri li trova là in fondo. Buonasera, mio marito voleva un telefono senza fili, sa, per parlare anche dal giardino. Ma guardi pure, ne abbiamo per parlare dal giardino, dal terrazzo, dal balcone. Certo che lei avrebbe proprio bisogno di un aiuto. E un aiuto ce l'avrei, ma ogni volta è come se venisse da un altro pianeta. La sua segreteria. Negozi in SIP. Il telefono ha trovato casa. E ti, e ti, qui fa tutto e ti. Oh, fua.